Musica Scontro Italia-Francia sui migranti, il ministro degli esseri italiani, frasi inaudite, Parigi si deve scusare. Gli abusi sui minori deturparono la nostra testimonianza, così Papa Francesco nella giornata contro la pedopornografia è il momento di rimediare al danno fatto alle generazioni che ci hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire, ha aggiunto il pontefice. Napoli in festa, arriva il terzo scudetto e la città festeggia e celebra Spalletti e i suoi ragazzi. Buongiorno, in apertura la politica con lo scontro diplomatico tra il ministro dell'interno francese e il nostro governo, maggioranza compatta ma divisa su altre questioni. Augusto Cantelmi. Vogliamo le scuse da Parigi, non rientra la crisi diplomatica tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori. Il ministro degli esseri italiani, che ha annullato il bilaterale con la collega francese Colonna, insiste nel condannare le parole del ministro dell'interno Darmanin, per il quale il presidente del Consiglio Meloni sarebbe incapace di risolvere i problemi migratori. Le offese al governo e all'Italia pronunciate sono inaccettabili. La maggioranza si schiera a difesa del governo, ma anche le opposizioni criticano le parole del ministro Transalpino. Le parole del ministro francese si commentino da sé, innanzitutto perché sarebbe cosa buona e giusta che nessuno intervenisse a commentare i fatti interni degli altri paesi. Ma se il governo si compatta sulla questione dei migranti, restano evidenti le divisioni nella complicata partita delle nomine. Slittano quelle per la guida di Polizia e Guardia di Finanza, con la maggioranza spaccata. Via Libera invece per il passaggio di Carlo Fuortes da amministratore delegato della RAI alla direzione del San Carlo di Napoli. Cambiano anche le guide di Inail e IMSS con l'arrivo dei commissari in attesa dei nuovi presidenti. Intanto a Palazzo Chigi, cabina di regia sulla siccità, mentre i Verdi protestano in piazza. Il ministro delle infrastrutture Salvini ha convocato la cabina di regia contro la siccità e lui la presiderà. Adesso non so se questo sarà un disastro per l'Italia. Il conflitto in Ucraina con il capo del gruppo Wagner, che minaccia di ritirare le sue unità dalla città ucraina di Bakhmut. Kiev intanto incassa un ulteriore sostegno dell'Unione Europea. Fabio Bolzetta. L'attacco con i droni sul Cremlino non avrebbe potuto avere luogo senza che gli Stati Uniti ne fossero al corrente. Lo ha affermato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che ha messo subito in chiaro «Risponderemo con passi concreti». Ancora mistero sui due droni abbattuti sul Cremlino. Nessuno sa la verità, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Intanto continua la ritorsione di Mosca. Kiev ha denunciato di aver respinto oltre 60 attacchi russi nelle ultime ore. Il presidente della federazione, Vladimir Putin, presiderà oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza, ma il Cremlino ha ripetuto che si tratta di un vertice di routine. Ma intanto il capo del gruppo Wagner, Prigosin, con un video diffuso sui social, ha minacciato di ritirare le sue unità dalla città ucraina di Bakhmut, nella regione di Donetsk, il prossimo 10 maggio, a causa della mancanza di munizioni e dell'elevato numero di vittime tra le loro file. Mentre sul fronte della diplomazia, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell Fonteles, ha chiarito che il piano di pace cinese non si può definire tale. È un sogno ad occhi aperti, una lista di desideri. L'unico piano di pace è quello di Zelensky, ma la Russia non l'accetterà mai. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna dopo i nubi fragili e le esondazioni che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. Due le vittime, centinaia gli sfollati nel Ravennate e disagi in tutta la regione, scuole chiuse e treni fermi. La crisi degli abusi sessuali è particolarmente grave per la Chiesa, perché mina la sua capacità di abbracciare in pienezza la presenza liberatrice di Dio e di esserne testimone. Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Il Pontificia ha poi aggiunto l'incapacità di agire correttamente per fermare questo male e di venire in aiuto alle sue vittime ha deturpato la nostra stessa testimonianza dell'amore di Dio. E proprio nella giornata nazionale contro la pedofilia, la pedopornografia, Don Fortunato di Noto invita tutti a non abbassare la guardia e a lottare per i diritti dei bambini. Barbara Masulli. La lotta alla pedofilia deve essere combattuta quotidianamente. Il 5 maggio, data in cui ricorre la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, è solo l'occasione per ricordare questa battaglia. Il fenomeno è un fenomeno in aumento, un fenomeno globale, un fenomeno estremamente pericoloso per quanto riguarda la sicurezza dei nostri bambini e la traumatizzazione che avviene attraverso l'abuso. I bambini devono essere tutelati a 360 gradi e non possiamo assolutamente minimizzare o sottacere questo fenomeno che ormai ha raggiunto anche i livelli pedocriminali, cioè dire in mano a organizzazioni che sfruttano l'innocenza dei bambini per scopi certamente non belli e non leciti. Con i web e i social la diffusione di questa piaga si è ampliata. I dati della polizia postale spaventano. Nel 2022 sono stati oscurati 2.622 siti e sono state denunciate 1.466 persone. Il profilo criminale corrisponde spesso a quello di un uomo italiano incensurato e con un'età media inferiore ai 50 anni. Solo nei primi tre mesi del 2023 si contano già 56 minori di età inferiore ai 13 anni addestati in rete, 34 le vittime adolescenti e purtroppo a compiere le azioni più gravi di abuso sono soprattutto parenti o persone molto vicine ai minori. L'impegno deve essere costante, continuativo, attraverso un'informazione e la prevenzione, ma soprattutto anche attraverso il contrasto, che devono fare le forze preposte al contenimento di un fenomeno gravissimo che ha conseguenze permanenti. La sfida alla denatalità e all'inverno demografico dell'Italia al centro della terza edizione degli stati generali della natalità l'11 e il 12 maggio a Roma. La presentazione oggi all'ospedale Fatte Bene Fratelli Gemelli Isola Tiberina alla presenza di Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità e Giancarlo Blangiardo, già presidente dell'Istat, ospiti d'eccezione agli stati generali. La mattina del 12 di maggio, Papa Francesco e il Premier Giorgia Meloni. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese. Le raccomandazioni dei medici in vista della giornata mondiale del prossimo 12 maggio nel servizio di Lucia Ascione. Il 25,3% della spesa farmaceutica italiana è destinato a medicinale per la cura del sistema cardiovascolare. La cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia. Basterebbero solo due dati per comprendere quanto sia necessario accendere i riflettori sulla prevenzione delle malattie a carico di cuore e vasi. La prevenzione cardiovascolare è fondamentale, soprattutto nel controllare la morbidità e la mortalità cardiovascolare, soprattutto tenendo sotto controllo quelli che sono i principali fattori di rischio, che sono il diabete, il fumo, il colesterolo e l'inattività fisica. Ma perché il movimento costante diventa un validissimo aiuto nella prevenzione delle patologie cardiovascolari? Perché riesce proprio ad impattare su tutti quei fattori di rischio che stiamo dicendo, cioè sia sull'ipertensione, quindi riducendola, che sul colesterolo, soprattutto su quell'HDL, che su tutti quei parametri anche endocrini che favoriscono, come per esempio la adrenalina, le adrenaline plasmatiche che agiscono sull'infarto. Se per alcuni certe informazioni sono già note, per molti forse la novità della nuova campagna in preparazione alla giornata mondiale della prevenzione del prossimo 12 maggio, sta nella quantità di esercizio da eseguire per tenere in forma il cuore, alla portata davvero di tutti. Basta semplicemente fare 150 minuti a settimana di attività fisica, distribuiti preferibilmente a giorni alterni, cioè basterebbe fare 4 km l'ora e questi risultati sarebbero ottenuti come prescrivono le principali linee di vita internazionali. In Serbia la polizia ha arrestato l'uomo armato sospettato di essere il responsabile dell'uccisione di 8 persone e del ferimento di altre 13 ieri sera in Serbia, appunto in una cittadina della Serbia a 60 km dalla capitale, lo ha reso noto il canale televisivo statale pochi minuti fa. Un articolo lungo, 14 anni, scritto mettendoci la faccia e il cuore, ma sapendo di essere al servizio e non al comando. Così Marco Tarquinio oggi nell'editoriale pubblicato in prima pagina su Avvenire saluta i lettori e ringrazia l'editore augurando buon lavoro al nuovo direttore del quotidiano milanese Marco Girardo. I giornali sono vivi se sono comunità di lavoro, Avvenire lo è ed è gli uomini e le donne che lo fanno, scrive Tarquinio. E io so che sotto la guida di Marco Girardo, grande collega e uomo di valore e di valori, continuerà ad esserlo. E adesso la festa del Napoli che vince lo Scudetto e in città si fa Baldorria e festa grande. Vediamo il servizio di Federico Plotti. Quello che doveva succedere è successo. A Udine bastava un punto al Napoli per conquistare il suo terzo storico Scudetto e così è stato. Nel capoluogo partenopeo in quasi 60.000 hanno seguito la partita sui maxischermi allestiti allo stadio Maradona. Al fischio finale esplosa la festa, bellissima, incredibile. Una città intera si è riversata nelle strade, nei vicoli, dal lungomare, a piazza Plebiscito, dai quartieri spagnoli, ai rioni, alle periferie della città. Un milione, forse anche di più, le persone che hanno fatto festa tutta la notte. Uno Scudetto atteso 33 lunghi anni ma dal sapore diverso dai due vinti con Maradona. Questo è il risultato di una programmazione attenta iniziata 19 anni fa quando il presidente dell'Aurentis ha preso il Napoli dalla Serie C dove era finito dopo il fallimento. Anni di scelte giuste, investimenti azzeccati fino allo Scudetto di ieri che è figlio anche di diverse stagioni giocate sempre al vertice. Festa grandissima di una tifoseria incredibile che racconta l'amore per la propria squadra e la propria città macchiata però da alcuni episodi di cronaca. Ucciso forse in un regolamento di conti a colpi d'arma da fuoco un 26enne pregiudicato. Nella stessa sparatoria si contano anche sei feriti devastato dai parenti in pronto soccorso del Cardarelli dove il ragazzo è deceduto. E adesso in Sudan la situazione sta precipitando verso la catastrofe. I bambini sono sempre più coinvolti nel fuoco incrociato e l'allarme lanciato dall'Unicef. La cronaca allora nel servizio di Maurizio Dischino. Tre settimane di guerra in Sudan. Sette tregue annunciate, tutte violate sul nascere. L'ultima sarebbe dovuta entrare in vigore ieri e durare una settimana. Secondo quanto riportato dall'emittente Al-Arabia, il cessato del fuoco era stato concordato in linea di principio tra i generali golpisti in conflitto tra di loro. E cioè Abdel Fattah Al-Buran, presidente a capo dell'esercito sudanese, e Mohamed Hamdan Dagalo, detto EMT, leader dei paramilitari delle forze di supporto rapido. Ma la capitale Khartoum ieri si è svegliata con il sibilo degli attacchi aerei e i frastuoni dei pesanti bombardamenti vicino al palazzo presidenziale e nella vicina città di Omdurman. Si combatte in gran parte del paese. Dal 15 aprile almeno 528 morti e 4.600 feriti. L'unice fa riferito che tra le vittime ci sono molti bambini, 190 uccisi e altri 1.700 feriti. Il bilancio complessivo dei morti rischia di essere appesantito anche dal difficile accesso all'assistenza sanitaria. Solo a Khartoum due terzi delle strutture mediche sono chiuse. Diversi quartieri continuano ad affrontare gravi carenze idriche in seguito a blackout, mancanza di carburante e danni alle forniture idriche. A causa dei combattimenti sono già 334.000 gli sfollati interni. Nei sette paesi confinanti almeno 100.000 i rifugiati sudanesi che potrebbero arrivare a 815.000, stando alle previsioni dell'alto commissario ONU per i rifugiati. I ministri degli esteri dei paesi della Lega Araba si riuniranno domenica al Cairo per due incontri straordinari sulla guerra in Sudan e in Siria. Tutto pronto a Londra per l'incoronazione di re Carlo III, una cerimonia radicata nelle tradizioni, trasfarzo e significati religiosi che però guarda anche al futuro ruolo del monarca. Il servizio di Francesco Durante. Timido ma irascibile, amante della caccia e del giardinaggio, paracadutista, surfista e persino pittore sensibile. Il grande giorno è ormai arrivato per re Carlo III con i suoi 74 anni, il sovrano più anziano nella storia del Regno Unito. Domani sarà incoronato presso l'abbazia di Westminster insieme a Camilla, la regina consorte. Una cerimonia sfarzosa nel solco della tradizione che inizierà con la processione da Buckingham Palace fino all'abbazia dove sarà presentato al popolo e poi proclamato re indiscusso mentre verrà intonato l'inno God Save the King tra gli squilli di tromba. Presterà poi giuramento come custode delle leggi del Regno e della Chiesa d'Inghilterra. Il momento culminante sarà quando indosserà la corona di Sant'Edoardo, oltre due chili di oro massiccio decorata con pietre preziose. Nella parte finale della cerimonia il re salirà al trono accompagnato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massima autorità spirituale della chiesa anglicana. I sovrani rientreranno quindi a Buckingham Palace dove dal balcone saluteranno la folla. Saranno presenti alla cerimonia decine di capi di Stato, tra cui il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, tutti i sovrani d'Europa, personalità politiche e religiose, ma anche esponenti del volontariato e dell'associazionismo. In rappresentanza di Papa Francesco parteciperà il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin. Con questo è tutto, vi lascio al meteo, a terza pagina, è all'ora solare che oggi ospita la scrittrice Sara Ciaffardoni. A tutti voi l'auguro di una buona giornata. Arrivederci.